La nostra intenzione sarebbe quella di focalizzare sul problema della femminilità per mettere in evidenza anche una sorgente di difficoltà nella coppia. Quindi non è che si parli della donna, si parli della femminilità per parlare di un rapporto che deve essere ricalibrato, che deve essere riquilibrato a beneficio non solo della donna ma anche dell'uomo. Periferia donna, di cosa si parlerà a mercoledì? Innanzitutto il concetto periferia è una parola usata da Papa Francesco, è periferia esistenziale, cioè vuol dire persone che dovrebbero vivere al centro del cuore nel nostro mondo e nella nostra società che vivono dentro la società ma non sono considerate quanto dovrebbero essere perché oggi, nel 2014, noi abbiamo dei fenomeni di non riconoscimento della donna nella sua vera validità. Vorrei dire in concreto, è provato ormai, è provato scusate, che la donna primeggi in moltissimi campi, vive nell'ambito della scuola, nell'ambito della ricerca, nell'ambito della politica quando ha la possibilità ai massimi livelli, però quantitativamente sono molto poche le donne che riescono a entrare per esempio nel campo dell'economia, delle responsabilità economiche, nel campo delle responsabilità industriali oppure nell'ambito anche della società istituzionalizzata, della politica eccetera. Questo è dovuto al fatto anche di una tradizione maschilista terribile che si è praticamente giovata nel suo prevalere, nell'essere dominante, del fatto della maternità soprattutto della donna. E infatti parleremo anche in questa conferenza di questo processo culturale lunghissimo e anche religioso. Mentre invece la donna è assolutamente in grado di essere all'altezza. Leggevo di due studiosi americani che mettono in evidenza qualcosa che anche altri italiani mettono in evidenza, cioè si tratta della poca autostima che ha la donna e della paura che ha del poco coraggio di farsi avanti. La donna è difficile che si proponga. Questo vale anche per la realtà intima per cui io penso che ci sono anche molti passi che si devono fare per quello che riguarda la vita intima della donna.